E' bella sorpresa ragazzi, ho trovato un nuovo video, ho trovato due partitine Ragazzi oggi ci faremo, finalmente vi porto le singolo Ragazzi, ah, cavolo, ecco, perché non trovavo i power up, 90 power up Devo fare un po' Vabbè ragazzi Non puoi pensare un singolo Ragazzi mi verrà molto, molto, molto Scusate Ok ragazzi, ci è venuto a pusciare un bull così a caso Io stavo sistemando un attimo una cosa Ok 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 ragazzi, con cosa me lo prendo Ragazzi, che dite, ce l'andiamo a fare quel bull? Ma sì, dai Ok ragazzi, ha 7 power up ed è morto Wow Ora ne prendiamo anche un'altra Ragazzi, chiunque trovo lo distruggo Vabbè, ma mi è finita un attimo Ragazzi, quando usate l'ulti di rosa Agli avversari gli si diminuisce il danno che vi fanno, che vi causano a voi Ovviamente qui c'è un piccolo cult E gli diminuisce il danno Quindi, ragazzi, ecco Lei ha una probabilità Vedete Io adesso, nonostante lei facesse 2000 di danno Io Sono sopravvissuto Ecco qua Rango 3 Saluto anche di livello Gettone stella 60 cosi 124 28 Ragazzi, appena si tratta E lo farò con un bambino Infatti, come vedete, ragazzi Scusate per il piccolo tilt Ne abbiamo fatto E ricominciamo No, aspettate, ragazzi No, vabbè Ora me lo facciamo Ragazzi, questa scelta ci potrebbe far fuori Ma noi, ovviamente, siamo più forti Uh, ok Piccolo problema Io non me lo posso fare No, non mi ha deciso Quella scelta è bruttissima Non c'entrava niente Vabbè, ragazzi Per fortuna Vabbè Se lo so che basta Ragazzi, come vedete Sono diventato molto alto Con le copie 400 Sì, ragazzo Che per voi Perché sicuramente voi Che guardate i miei video Avrete 3000 copie Ma anche di più E quindi dite Ma non sono niente 400 copie Ragazzi, avendolo disinstallato Per me sono tante Quindi Non so Voi, ma Diciamo che sono tante Diciamo Non è che sono proprio Veramente tante Però Ok, ragazzi Ho stato ulti Insieme a lui Ci facciamo pochissimo D'anno a vicenda Ma io Essendo più Ok Porco due, raga Raga Questo è il primo, ok Per fortuna Che ha finito Il coso Il succo Ok Mamma mia, raga Ragazzi Vi consiglio di usarla Se l'avete trovata Oppure l'avete scioppata Vi consiglio vivamente Di usarla Ok, noi c'è un Un succo Vi consiglio vivamente Di usarla Perché è fortissimo Guarda Cioè, guardate Con un paura Di un genere Su Una Guardate No No Ragazzi Questo video È nel portare Solamente Rosa È nel portare solamente Però, raga Come vedete Stiamo per arrivare Alle 15 Al rango 15 Di cosa E stiamo per bloccare Anche Jesse Raga Non vedo l'ora Di portarvi un contenuto In cui Faccio tipo Un botto Un po' di roba Un po' di roba Un vero Seriamente L'ora Piccolo taglio Ok Ok Vai qui Ok, raga C'è un power up Però non credo di riuscirlo a prendere Infatti Lo prendo con la Shelly E io scappo Scappo malissimo Scappo malissimo È più veloce No Eh, raga Questa qua l'abbiamo persa Quante coppe Abbiamo perso Una Vabbè Fa niente, raga Rebutiamoci Ma perché Sto spammando colpi No Che costa Il You stay You Raga Ecco qua Ragazzi fate Ok Vai Prendi rosa Prendi rosa Fatti l'ulti No, raga Non mi Non mi caricava l'ulti Vabbè Rebutiamoci Uccidimi Quindi Questo qua Qua vale di mare Tanto so che ora mi viene a sparare Quindi No Perché Voglio vedere Nella Tua web La stessa Reazione Che ha avuto Tanto Dietro Sì Dietro Non ci arrivo No Ce l'ha pure Una trappola Ma Dai C'è Troll Nel troll Ragazzi Sto timando Ragazzi Lui non vuole uccidere Il mio amico No, raga Questa rosa È cattiva No, raga Quella rosa È cattivissima Non vuole far team Abbiamo fatto team Ora spero Di rifar team Perché è carino In far team Guardate E Porco Due Ok Ora provo A fare team Ma che questo È il primo Che stava qui Sperando che non sia morto Non me l'aspettavo Lì Cavolo Adesso Mi ha tornato L'ultimo Ok Provati Ma arrivo Con quella sceglia Ok Mi ha dato qua Vara fango Così Ok Dobbio Ma vaffan bene Nessuno che team Ma qua Prima sparano Poi team Ma non si sa che cosa vogliono fare Nella vita Sì Credo che Vabbè Ma vuoi morire Brutto Pezzente Vabbè ragazzi Grado Qui 5 Raccolto Ora Usciamo Vediamo quante Cazze Siamo riusciti a fare Una Bello Vabbè Il video Può terminare Qui Sperando di Trovare Non aspettate Oh mio dio In diretta Raga Carl Raga Carl Raga Carl Oh mio dio Raga Totalmente Nove Vabbè Vabbè Raga Potremmo Con la mia rosa Grado 15 Un saluto A tutti E Bella Raga Ciao Ciao